Buongiorno pomeriggio, oggi vi farò vedere come si fa il sale colorato. Allora, per il primo corrente serve il cucchiaio, per il secondo corrente serve il sale grosso e piove, tuoni. Quindi, bicchieri, un bicchiere che dopo tutto il sale colorato che abbiamo fatto, lo dobbiamo mettere qui dentro. Poi servono i pennarelli. Allora, prima cosa mettiamo tutti i bicchieri qui. Pregniamo il sale con il cucchiaio. Prendiamo il primo bicchiere. Prendiamo il colore viola. No, viola, è fucsia. Fucsia è il viola, sì. E iniziamo a colorarlo. Da per venire. E poi questo sale colorato viene veramente bellissimo con i pennarelli. Ne robo velo. Venuto. Prendiamo il secondo pernarello con il giallo. E lo coloriamo. Un minuto. Secondo. 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 Prendiamo... E' un arancione del fluo, perché proprio se vogliamo parlare è questo arancione. Non sono uguali, vedete? Prendiamo il sale. Prendiamo il sale. Stavi. Già venute. Venuto. ultimo bicchiere poi il celeste e lavoriamo viene bene sta venendo venuto ora per l'ultima cosa prendiamo questo bicchierino e versiamo tutto il sale colorato in questo bicchierino ecco il sale colorato spero che questo video vi sia piaciuto e prossimamente farò altri video ciao bye bye